Ciao Valerio, complimenti sempre per il tuo lavoro, volevo anch'io dire la mia riguardo a questo argomento. Guardando la cosa dal punto di vista del fotovoltaico, che ovviamente è meno complesso delle caldaie a gas, dove comunque ci sono questioni legate alla sicurezza e che sono senz'altro da prendere sul serio e da non sottovalutare. Un tecnico certificato, aggiornato, che fa i corsi, che conosce i prodotti nuovi, che quando c'è un corso nuovo promosso dall'azienda per la quale lui installa o fa l'assistenza, dà la garanzia ai propri clienti di sapere sempre quello che sta facendo. Inoltre ha i contatti in azienda, non è uno sconosciuto e quindi nel momento in cui ci fossero delle criticità un po' insolite, sa a chi rivolgersi, sa dove domandare. Quindi viva i corsi di aggiornamento e le qualifiche. Un saluto da Marco Faia, il tuo esperto del fotovoltaico. Grazie.